Ciao amici bentornati! Venerdì, tempo dell'effetto della settimana. Questa settimana è ancora in atto la Gaming Week di Amazon ed è ovvio che comunque anche in questo video almeno la metà dei prodotti che vi presenterò riguardano quell'area però ci sono offerte interessanti a cui sono riuscito ad aggiungere anche qualcos'altro. Prima di iniziare vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link di tutti i vari prodotti per approfondire. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere le offerte di questa settimana. Le prime 5 che vi dirò se vi interessano correte ad acquistarle perché sono le offerte quelle del giorno, sempre fanno parte di questa Gaming Week di Amazon e quindi non so insomma fino a quando saranno disponibili. Iniziamo con un SSD di SanDisk da 480 GB quindi comunque un pezzo forte, 64% di sconto, 157 euro come prezzo, niente male. Mentre se state cercando un monitor c'è un'offerta, questo BenQ, un ottimo monitor, 27 pollici per giocatori ovviamente va bene per tutto, però siete giocatori andranno ancora meglio, 24% di sconto, 226 euro. Come prezzo, e sempre siete giocatori, c'è questa Game Capture di Elgato quindi per registrare le vostre sessioni di gioco puoi condividere appunto qui su YouTube o dove volete 36% di sconto, 127 euro come prezzo. Dopodiché abbiamo un paio di mouse il primo è il Razer Mamba venduto a 35% di sconto, 116 euro il secondo invece è il Logitech, il G602 prezzo molto interessante perché quasi la metà del prezzo 46% e 48 euro come prezzo finale. Per quanto riguarda l'audio ho identificato questa cuffia gaming della Sennheiser quindi, ok, stiamo parlando, ci siamo capiti, insomma di un buon livello qualitativo venduta al 45% di sconto, 125 euro come prezzo. Se invece siete sempre giocatori ma appassionati di giochi di auto il G29, l'ultimo volante di Logitech, è venduto al 27% di sconto, 299 euro. Andiamo avanti poi con una macchina fotografica perché ho individuato questa Sony RX100 quindi una macchina fotografica, una compatta, però una compatta di fascia alta venduta al 40% di sconto, 399 euro. Se state cercando una macchina di questo genere in grado ormai di fare tutto, anche di registrare video e tenetelo in considerazione, vi raccomando. Mentre se hai cercato un componente hardware, in realtà un dissipatore liquido per raffreddare la CPU il modello Cooler Master Seidon, Seidon o Seidon, come si dice, non lo so 21% di sconto, 49 euro come prezzo. Mentre in conclusione un oggettino carino, ogni tanto lo vado a scovare questa tipologia e ve la propongo perché è interessante per essere abbinata agli smartphone, per i creativi, per le foto un set di lenti appunto per fare delle foto più creative prezzo veramente basso perché sono avute al 68% di sconto 12 euro come prezzo finale. Grazie ragazzi per avermi seguito in questo video del venerdì vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei prodotti che vi ho proposto nei questi minuti vi raccomando se trovate qualcosa anche voi segnalatelo qui sotto in maniera che tutti possano approfittarne se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale vi raccomando condividete questo video voglio che qua siate sempre di più io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo negli altri video ciao ciao